Musica Ciao a tutti amici e bentornati in 7 Days to Die del Survivor Horde Crafting Game Bentornati o benvenuti perché questo è il primo episodio appunto di 7 Days to Die del Survivor Horde Crafting Game con l'Alfa 15 P105 come potete vedere in alto a destra allora amici tanti aggiornamenti in questa Alfa 15 dunque partiamo subito col dirvi subito una cosa importante avevo detto che avrei fatto per questa Alfa 15 anche una serie multiplayer e la farò ma non ora ora partiremo con una single player per vedere le novità e per ovviamente addentrarci in questo mondo in single player da soli assolutamente da soli ma come ben sapete hanno aggiunto alcuni NPC alcuni buoni per fare scambi commerciali alcuni cattivi infatti avremo anche i banditi e altre cose nuovi territori da esplorare nuovi edifici da esplorare tantissime nuove cose da fare ma le vedremo tutte ovviamente in questa serie e anche nell'altra serie quindi ci saranno fondamentalmente due serie una single player e una multiplayer single player parte ora multiplayer partirà fra un po' di tempo tanto fretta non ce n'è vi ricordo la serie multiplayer avrà un server apposito dove potrete giocare eventualmente anche voi però questo lo vedremo più avanti prima cosa da fare guardate nell'opzione abbiamo il player profile come nell'Alfa 14 vi ricorderete con tutti questi personaggi e molti sono cambiati possiamo addirittura crearne uno nuovo noi partendo da una sorta di base andando a cambiare ovviamente la muscolatura eccetera eccetera un sacco di cose non lo farò adesso lo dico subito possiamo anche fare randomize per farli un po' random guardate i personaggi che escono fantastici c'è un po' questo effetto schifoso di sfondo che andrà corretto comunque va bene e tra l'altro non lo andrò a fare adesso ma sicuramente nella serie multiplayer assolutissimamente sì perché vale la pena farci un personaggio che sia riconoscibile ovviamente qua nella serie multi no e quindi useremo Aiden questo personaggio che fa veramente credibile a questo personaggio lo facciamo creare e no create gli infatti diamo semplicemente l'ok ora siamo pronti per vederci in game eccoci spawnati in game amici dunque subito il messaggio caro amico the western bla 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 ci invita a praticamente ci dà un benvenuto al gioco e ovviamente ci dà buona fortuna e ci invita a sfruttare il tutorial che ci propone all'inizio appunto per avere le prime basi di questo gioco e quindi lo vedremo assieme prima cosa da fare è craftare una stone axe che è il primo diciamo elemento incredibile intanto guarda vi faccio vedere la grafica guardate un po' ho detto guarda guardate un po' la grafica migliorata tantissimo ma il motore di gioco è veramente pesante amici dovete avere un signor pc per far girare sto gioco qua io spero spero che adesso nell'alfa 15 man mano ci siano gli aggiornamenti migliorino il motore di gioco perché bisogna fare una notevole miglioria del gioco intanto l'hanno migliorato tantissimo bene allora bisogna prendere plant fibers gather wood small stone ok perfetto legno lo prendiamo da qua ormai dovreste essere esperti anche voi anche io ovviamente non è la prima serie che facciamo in seven days to die però dovremmo scoprire nuove cose quindi ok legno preso fiber adesso ne prendo un bel po' come sempre amici prima puntata ci leviamo subito il tutorial per vedere anche se magari hanno aggiunto qualcosa facciamo la nostra prima esplorazione siamo stati fortunati siamo sporati in questo ambiente qua dove c'è subito una casa lì non male non male assolutissimamente prendiamo un altro po' di legno qua dunque mi raccomando vi invito a scriverne i commenti eventualmente cosa vorreste vedere e poi parliamo subito di cosa fare in questa serie dunque abbiamo preso questo ok dobbiamo trovarci delle pietre delle piccole pietre dei piccoli sassolini che si trovano ovviamente sponati per terra in giro tipo questo eccolo qua tipo questo c'è del cotone me lo prendo anche perché serve sempre il cotone prendo altre fibre perché le fibre sono utilissime il cotone pure in realtà tutto quello che troviamo è utile quindi addirittura qua c'è del ferro perfetto tiriamo su tutto tiriamo su tutto benissimo possiamo già fare credo la stone axe no ci manca una pietrina dunque vediamo un po' uh qua c'è della monnezza glass panel va bene ok bisognerebbe capire ok eccola qua l'altra pietra bisognerebbe capire dove siamo sponati abbiamo qua la mappa anche perché navets gain è stata ottimizzata e migliorata quindi cavolo sono veramente curioso di capire dove siamo sponati benissimo dunque allora io direi andiamo subito a fare ovviamente la nostra stone axe la craftiamo e l'abbiamo qua per i neofiti del gioco che ancora non lo conoscono vedete che la stone axe è a livello 1 man mano che aumenteremo le nostre abilità che troviamo qua andremo ovviamente a potenziare anche e a migliorare gli attrezzi che facciamo non solo noi stessi ma anche gli attrezzi ora bisognerà fare tutto il vestito perché attualmente il nostro personaggio è in giro in mutande e con un crestore incredibile quindi bisogna assolutamente vestirlo 35 di fibre ne abbiamo già raccolte tantissimo quindi possiamo già farlo andiamo subito a farlo dunque dobbiamo fare prima di tutto i pantaloni e lì andiamo a fare che cavolo sto scrivendo pani tipo pony stavo scrivendo ok i plant plant fiber spant li andiamo a craftare dopo abbiamo la maglietta andiamo a craftare anche questa abbiamo il cappuccetto se non erro se eccolo qua il cappuccetto poi abbiamo le scarpe le scarpe fatte e poi abbiamo i gloves che sono le robe schifose qua benissimo tutte in coda intanto io mi tiro su un po' di cose e vado a vedere anche qua cosa c'è qua assolutissimamente niente per ora zombie non se ne vedono una torta la sgiara ok interessante ok benissimo e ora ci dice di vestirci con queste cose fantastico io prima di tutto vado a vedere qua nello zombie perfetto dei pine killer che sono sempre utili uno zaino fantasticissimo uh abbiamo già delle cose per ottimizzare il nostro abito diciamo vado a vedere a questo che cavolo è sta cosa qua snooferry questo è nuovo non l'avevo mai visto ok qua nella macchina qua andiamo a vedere anche qua e poi ci andiamo a vestire il personaggio questi qua li possiamo scrappare per renderli adesso una volta che li scrappa eccoli qua per rendere questo lead idem possiamo fare questo e scrapparlo quindi per ricevere la materia primaria di queste cose qua eccolo qua 3 di iron fantastico e 15 di lead li abbiamo assolutissimamente qua questo si può mangiare perfetto allora andiamo a vestirci così da completare anche questa quest vai vai metti su questa roba metti su no questo e questo qua lo metto siamo su dopo e questo qua perfetto mancano solo questi ok e vedete com'è il nostro personaggio ora li sostituisco già questi con questo e questo qua li scrappo perfetto allora bisogna fare la wooden club che cos'è è una mazza semplicemente la wooden club una mazza per difenderci dagli zombie che fa male andiamo a craftare subito perfetto eccola qua eccola qua perfetto e abbiamo fatto anche la wooden club altra cosa trattare l'arco e le frecce dunque ci serve del legno quindi andiamo a prendere il legno io all'inizio lo vado a prendere da questo qua perché è un colpo e ce ne da 12 di colpo a volte ce ne da di meno a volte ce ne da di più per ora sempre 12 e va bene abbiamo già il legno quindi bisogna fare sicuramente quindi bisognerà fare il bow che è ovviamente l'arco lo andiamo a craftare ok poi bisogna trovare delle piccole pietre e delle e delle piume ok quindi va bene l'arco ce l'abbiamo qua ok allora dobbiamo trovare delle piccole pietre sono le solite che troviamo in giro e delle piume intanto ho visto anche un cervo e anche delle piume perfetto le piume ovviamente si trovano dove si trovano le piume ovviamente nei nei nidi nei nidi degli uccelli che troviamo per terra quindi molto facilmente nulla di di difficile diciamo attenzione il nostro primo zombie è una infermiera ok bisogna prendere anche bene il tempo per ammazzarli perché non è facile attenzione quindi oh è esplosa la testa dell'infermiera fantastico andiamo a raccogliere non ha nulla peccato peccato continuo a cercare ovviamente quello che è scappato il cervo quello che è quelli che sono i nidi d'uccello che mi permetteranno di raccogliere appunto queste piume queste penne che ci serviranno appunto per craftare le frecce attenzione un altro zombie che arriva intanto ho trovato il nido eccolo qua avevano cambiato anche la skin del nido infatti molte cose sono cambiate attenzione due zombie addirittura sono fratelli fratelli gemelli attenzione ragazzi questo qua era un problema ok uno l'abbiamo un po' scolta attenzione potrebbe colpirmi attenzione ok sono due diventano pericolosissimi l'altro non è morto sta solo facendo finta amici l'abbiamo visto più di una volta eccolo che si è rialzato l'abbiamo visto più di una volta così damogli un po' di colpi a questo qua ok non è ancora morto sembra porca c'era sti zombie sono veramente forti ma più che altro è che abbiamo delle armi da far da fa schifo all'inizio questa vdn club a livello 1 è veramente pietosa così come l'ascia e così anche come tutte le armi che costruiamo a livello 1 ovviamente dobbiamo migliorare semplicemente la nostra qualità delle armi attenzione vediamo se dietro c'è qualcosa stanno arrivando altri zombie quindi zombie a go go amici prima puntata subito zombie a go go ok uno l'abbiamo ammazzato questo si è fermato ok adesso ha ripreso aia pugno fottuto quanto ti toglie 29 ma quanto cavolo ti vuole questo zombie del cavolo ok un altro è morto benissimo siamo all'ultimo se non ne attiriamo altri e se non ne attirano altri guardate che albero questo qua in mezzo ma che cavolotti albero è questo qua in mezzo alla strada una roba incredibile una roba stranissima veramente amici e muori e muo sei rotta la vdn club ho preso pure un pugno caccia eva mi ha dato un colpo terribile ok sentite il cuore tutto ok direi di usare le bende a questo punto usiamo le bende per curarci altrimenti moriamo un maiale sopra là e con questo col cavolo che ti faccio male ok avevo trovato tutto porcaccia eva sto cavolo di cosa cioè tutto c'è un idolo avevo trovato allora andiamo no la vdn no 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 andiamo a fare la vdn club subito vai un'altra vdn club piazzamela oh vedete che questa qua è a livello 5 ad esempio quindi dovrebbe fare più danni comunque qualitativamente più alta diciamo ok vai muori e muori e che cavolo guardate ok cavolo ma che cavolo sono duri sti cavolo di zombie questa cavolo di alfa queen ola dimmi cos'hai casino token schifezza hai qua aveva dei degli occhiali da nerd questo qua vediamo un po' tutto si raccoglie dunque erano qua sopra se non sbaglio qua sopra da qualche parte c'erano porca eccolo qua uno perfetto 16 piume perfetto possiamo fare le frecce io raccolgo altre pietre qua ce n'era un altro addirittura due vicini c'è anche l'uovo ce lo prendiamo il legno ce lo prendiamo ci prendiamo veramente tutto anche perché è quasi notte amici una gallina se riuscissi a ammazzarla ok ci prendiamo anche piume guardate e carne perfetto è apparso all'icona in fondo a sinistra della questo del naso cosa vuol dire vuol dire semplicemente che attualmente gli zombie nelle vicinanze saranno attratti da noi perché perché trasportiamo carne fresca la carne fresca fa odore e quindi appunto e arrivano e arrivano e arrivano quindi è buona norma di sfarsi subito della carne un altro zaino fantastico ok dell'acqua ci fa comodo ok lo zombie ci segue quindi è bene scansarlo via e andare verso la casa obiettivo di stare dentro quella casa lì il più possibile o almeno per la notte fare attenzione un altro zombie stanno arrivando da tutte le parti cosa c'è è per ora li raccolgo sono zombie ovunque ok ho altre di queste e questa musichetta qua segnala che è arrivata la notte praticamente arriva la notte non si vede assolutissimamente una ceppa e rischiamo di morire infatti vedete che non si vede assolutissimamente nulla benissimo ci sono poche luci poca illuminazione e non si vede praticamente nulla fantastico siamo dentro alla casa amici abbastanza al sicuro però direi di fare subito una cosa prenderci questo e scaricare qua la carne ok e poi mettiamoci tranquilli siamo dentro una casa praticamente distrutta e praticamente conciata veramente male veramente orribilante devo dire veramente orribilante guardate veramente brutta sono riuscito a seminare lo zombie anzi gli zombie in realtà è fantastico qua addirittura c'è un piccolo terrazzo cioè la casa è veramente fatta bene i zombie sono spariti per fortuna sono le 23.52 di notte continuiamo il nostro tutorial qua costruendo delle delle frecce ci dice fanno almeno due noi ne facciamo otto così almeno possiamo tranquillamente utilizzarlo è perfetto e la nostra tra virgolette missione è fatta ora lui ci dice praticamente di cominciare ad avere una base per farla ci dice raccogli la legna poi crafta dei wood frame piazza i wood frame e upgrada i wood frame ok di questo volevo anche parlarvi perché perché nella scorsa puntata abbiamo fatto se vi ricorderete una casa dal nulla intanto questi sono i wood frame una casa dal nulla in questa puntata di single play anzi in questa serie single player vorrei fare una casa sì però utilizzando una che già c'è quindi fare una casa che già c'è e andare a ottimizzare la casa che già c'è quindi magari mettendogli delle trappole dei muri di cinta e quant'altro allora andiamo a fare l'upgrade come si fa l'upgrade prendendo la stone axe e facendo questo lavoro qua uno fatto tasto destro due fatti e tre fatti perfetto e la parte 6 su di 8 è fatta andiamo alla parte 7 su di 8 che ci dice di fare un letto con le fibre e fare un bed roll così lo chiama così che non è nient'altro che un sacco a pelo fatto di fibre sostanzialmente di piante e di fibre andiamo a vedere un attimo il nostro personaggio perché in realtà potremmo mettergli questi occhiali ma anche questi vedete che ogni intanto che crafta ogni oggetto ha delle qualità migliori o peggiori quindi mettiamogli gli occhiali questi qua questi qua in realtà possono scrapparli come possiamo scrappare anche questo volendo in realtà no perché potremmo fare così la gli ha piegato totalmente la la sua bellissima capigliatura però va bene mamma mia è orribile da vedere bisognerà fargli subito una sorta di upgrade abbiamo fatto il bedroll ok mettiamoci questo bellissimo letto ad esempio qua e qua cosa succede sarà il nostro spawn cioè quando andiamo a morire spawneremo direttamente qua intanto qua c'è addirittura un fuoco da capo perfetto fantastico ok qua dice ha di fare addirittura un campfire quindi ci dice fai un campfire che è esattamente quello andiamo a craftare subito un campfire e ci dice anche di piazzarlo ovviamente quindi andiamo subito a farlo eccolo qua il nostro bel campfire lo piazziamo magari qui là perfetto e lui ci dice ok hai finito il tutorial base di tutte queste cose praticamente hai visto un po' come si naghi vengono nei menu eccetera eccetera ora ci dice viaggia nel settlement locata trader quindi bisognerà fare un po' di esplorazione ora prima di fare quello amici direi che per questa puntata è tutto prima puntata di 7 days to die the survival world crafting game alpha 15 importantissimo amici quindi ci vediamo nel prossimo futuro video dove andremo avanti esattamente da qua mi raccomando nei commenti se volete darmi dei commenti tanto vedo uno zombie che arriva là in fondo mi raccomando commenti con suggerimenti cose che vorreste vedere cose da costruire eccetera eccetera esplorazioni per questa puntate tutto mi raccomando un bel like se vi è piaciuto il video commentate e condividete da Amorugio è tutto al prossimo futuro video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti